Le norme si commentano definitivamente quando sono approvate da entrambi i rami del Parlamento. Siccome vedo in queste ore agitarsi molto su tanti punti, io penso che una valutazione definitiva va fatta nel momento in cui ci saranno le norme licenziate anche dalla Camera. Mi auguro che quella norma così importante non venga toccata e mi auguro soprattutto che altre norme che ha proposto Lanci vengano approvate perché è là che si può dare un segnale forte. Noi abbiamo segnalato vari punti, ma non è tanto solo il bando delle ferie, ma anche altre. Noi teniamo una serie di temi sui quali ci aspettiamo una risposta forte da parte del Governo sugli enti locali già nel mille prorogo.